Auguri di Buon Natale e un buon 2020 ai donatori di Avis Provinciale di Modena, in particolare ai donatori di Avis Marano, Avis Spilamberto, Avis Castelvetro, Avis Guiglia, Avis di Farano, Avis Sestola, Avis Montefiorino, Avis Montese, Avis Zocca. Il vostro dono è qualcosa di semplice ma allo stesso tempo di straordinario, può salvare e migliorare il dono più prezioso, la vita. Buon Natale!